papà papà che c'è ho un problema non mi viene la pipì viene giù goccioline sembra una perdita sembra la prostata è così che funziona il pittorino per i vecchi caro mio è il ciclo naturale della vita la fava prima come una farfalla che svolazza da una coscia all'altra poi la farfalla diventa un bruco ma anche la tua farfalla è diventata un bruco no io ancora svolazzo molto da una pillola così non mi rompi il cazzo hai per la prostata allora anche tu gocciolineggia sta mutando da merda che schifo e se devi più soppi so dentro al lavandino così non fare un cuore mi fai dormì o sei vecchio da meno di 24 ore già mi hai rotti i coglioni anche brutto carattere che c'è la fuoca di metano è andata via questa è l'aria di Marte ma che sono scoppiate le fogne ma tu non senti niente assolutamente no mamma mia ma che fanno cagato in bocca oddio datevi un boccaglio Mario giusto un boccaglio papà qualche minavirezza ho uno spazzolone d'eccesso oh 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 oh